Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Tennis Mania su Sport2U la web tv di OASport è davvero un appuntamento di quelle speciali sono molto contento che sia ritornato a trovarci e poi vi spiego il perché soprattutto sono così contento il capitano Filippo Volandri, eccolo qua Ciao ragazzi è un piacere essere qui e ovviamente vedete anche Guido Monaco che ringrazio di essere presente soprattutto perché lui in particolare ci teneva a fare questa chiacchierata con Filippo Volandri e non vi permetteremo questa volta di fare domande perché ovviamente dà la possibilità a Filippo di trovare il momento giusto la registriamo ma è stato il mio primo ospite di Tennis Mania se lo ricorda credo sì ma non sapevo di essere stato il primo però la location me la me la ricordo me la ricordo bene e quindi insomma ti dico questa cosa che mi fa molto piacere e ringrazio la federazione perché già allora ma anche questa volta ci permette di avere ospite Filippo Volandri e ripeto davvero la prima domanda la faccio fare a Guido perché è stato lui a organizzare tutto quindi come dire contro il protocollo vai tu Guido ti ringrazio ti ringrazio come come ti spiegavo io e Filippo da diversi anni i nostri destini diciamo in qualche modo si incrociano da quando ha vinto quel primo challenge a Viella e poi sono successo un sacco un sacco di cose e beh la prima domanda mi viene subito anche per alleggerire un po' quanti cornetti quanti non so amuleti hai comprato o ti sei fatto dare per arrivare da qui a Malaga insomma con la possibilità di schierare una formazione almeno il più competitiva possibile ma sì più che cornetti ho visto che poi alla fine quella parte lì non dipende da me e quindi me ne faccio una ragione ormai ho fatto esperienza callo spalle larghissime quindi mi sono un po' abituato a fare con quello che c'è e non con quello che magari avrei voluto ci fosse però ecco questa esperienza che è praticamente iniziata da ora da poco insomma dopo due anni e mezzo al terzo anno diciamo di Davis mi ha insegnato tanto tantissimo e tanto altro mi dovrà insegnare ancora perché insomma io posso avere tutta l'esperienza del mondo come giocatore insomma lavoro nel tennis da direttore tecnico ormai da sette anni quindi un po' di esperienza sicuramente c'è sapete lavoro lavoro anche a Sky lì forse da più di dieci anni quindi esperienza ne ho fatta qui ovviamente esperienza la sto facendo ed è l'unica cosa che credo non si possa comprare al supermercato quindi ecco sicuramente quello che è è stato e sarà è il mio impegno massimo la disponibilità da parte dei ragazzi che ho ottenuto e che sto sto ottenendo però ecco sì insomma sto facendo esperienza anch'io c'è questa diciamo notizia di qualche giorno o comunque insomma che riguarda Berrettini si sapeva che purtroppo avendo rinunciato a diversi aspettavamo che potesse entrare a Stoccol ma purtroppo non è successo però c'è un rapporto veramente saldissimo e vi sentite costantemente questo è anche normale per come sei fatto tu per come è il tuo ruolo però con Matteo insomma lui è un po' come se fosse il capitano giocatore tu sei il capitano e lui il capitano giocatore in qualche modo per l'età per il tipo di esperienza che ha fatto per quello che ha ottenuto in carriera e forse in qualche modo la sua assenza anche se sarà presente molto probabilmente da quello che si è capito vorrebbe essere presente per dare il suo supporto però le scelte sono ci sono meno scelte da fare questa volta rispetto magari a Bologna anche se poi non c'è stato Jannik lì questo in qualche modo ti dà le idee un po' più chiare cioè un po' più semplice per te il compito oppure comunque sarà una verifica da fare ovviamente a ridorso dell'impegno ma ovviamente è inutile nascondersi dietro a un dito avere Jannik ti dà una certezza questo è poco ma sicuro tutto il resto siamo sempre stati un po' purtroppo abituati a costruirlo anche in base all'adattabilità dei ragazzi su quelle superfici abbiamo visto che ogni volta una superficie diversa Bologna l'anno scorso era una superficie lentissima ma più lenta della Terra Rossa quest'anno era decisamente veloce quindi anche l'adattabilità dei ragazzi stessi per le loro caratteristiche cambia partita o partita quindi round robin piuttosto che eliminazione diretta quindi dovremo vedere intanto che tipo di superficie sarà perché oggettivamente stanno mentre fino all'anno scorso si erano un po' unificate quest'anno sembrano essere diverse addirittura parlando con chi organizza che ormai quest'anno è ITF ho saputo che noi avevamo un tipo di superficie in Corazia un altro un altro ancora quindi ognuno erano superfici diverse non scelte da noi quindi non la città che ospitava comunque la nazione che ospitava poteva scegliere la superficie ma erano superfici diverse e quindi già questo è abbastanza singolare e quindi ecco quindi magari qualche difficoltà in meno nelle scelte ma ovviamente tante tante indicazioni da prendere nei giorni in cui arriveremo lì siamo la squadra che per il giorno che gioca arriva prima di tutte perché arriviamo tutte il sabato 18 ma poi noi siamo come come la la Serbia e la Gran Italia siamo gli ultimi a giocare quindi ci prendiamo un po' più di tempo ecco quei giorni di mi daranno sicuramente tante tante indicazioni insomma le scelte che faccio le faccio sempre in base all'affidabilità le garanzie che mi danno i ragazzi che sia dal punto di vista fisico che sia dal punto di vista tecnico o anche emotivo in quel momento metto tutto insieme e poi faccio le mie scelte prima di dare la parola a Guido sarebbe quindi come date diciamo se tutto andasse bene o meglio come giorni mercoledì sabato domenica no giovedì sabato domenica giovedì sabato domenica giochiamo giovedì 23 ci sarebbe un giorno di riposo per chi vince nella nostra giornata perché gli altri hanno già giocato martedì e mercoledì quindi giocherebbero la prima semifinale le altre squadre e sabato la seconda semifinale e domenica la finale si hai fatto bene Dario a darmi qualche secondo in più per riprendermi dallo shock del saper l'avevo già intuito che le superfici non fossero uniformate perché voglio dire con una formula del genere il minimo che ti puoi aspettare è che almeno le superfici che poi vabbè ovviamente identiche al millesimo non potranno essere però insomma mi sembra veramente incredibile che ci siano superfici diverse in una situazione del genere detto ciò ti faccio un'analisi prendendola un po' larga e non voglio assolutamente io e Dario anche con i nostri ospiti spesso si è parlato ovviamente della Davis ci sono state le varie polemiche non voglio entrarci nello specifico io ho una lettura abbastanza mia che adesso mentre ti sentivo parlare volevo sapere la tua opinione i giocatori che tu hai a disposizione tolto ovviamente Fognini e Bolelli che hanno un'esperienza molto quindi hanno giocato la vera Coppa Davis diciamo quella che noi chiamiamo la vera Coppa Davis sì quella diversa quella diversa sì scusami non volevo sminuirla però insomma anche tu è diversa è proprio diversa è diversa è un'altra cosa Berrettini mi ricordo aveva giocato un round robin in India mi sembra ma poi anche lui praticamente non ha giocato questo tipo di tanto meno era all'esordio l'anno scorso a Bologna anche per suo dire tanto meno Arnaldi tanto meno Musetti né Sonego e neanche Sinner quindi tu non hai a disposizione dei giocatori che hanno un'esperienza appunto tolto i veterani che ce l'hanno e questo in qualche modo può anche aiutare perché comunque non avendolo però Berrettini ha questa differenza e mi leggo al fatto che lui possa avere un attaccamento ecco perché qui forse la parola giusta è il livello di attaccamento perché tutti sicuramente ci tengono tutti sicuramente sono attaccati però Berrettini ha un passato di competizione a squadre con la Niene per esempio molto molto importante era molto sentita giocava con Vincenzo è stato tuo avversario forse anche tuo compagno di squadra adesso non ricordo quindi e quindi lui ha questa cultura anche e questa abitudine sportiva di giocare la competizione a squadra in un certo modo e questo magari in parte può spiegare invece che fare delle polemiche assurde perché magari Yannick non senta ma non è una colpa ripeto o comunque metta davanti altre cose in certi momenti a quella che è la Coppa Davis è una lettura così strampalata o ci può avere un spesso sono stra d'accordo con te forse al 95% ma sono assolutamente d'accordo con te perché tutti noi abbiamo avuto percorsi diversi tutti noi vedi Matteo ma vedi anche me siamo cresciuti in un circolo di tennis in un circolo di tennis tu cresci e vedi i ragazzi della serie C che giocano e quindi tu dici porca misera io voglio andare a giocare la serie C e sono partito da lì sono partito alla C3-C4 poi dopo arriva alla serie B poi ovviamente arrivi alla serie A e lo vedi come veramente un raggiungimento dell'obiettivo ovviamente la Davis è la cosa più grande che c'è e quindi è un po' il sogno nel cassetto Yannick questa parte qui l'ha saltata a più e pari non ha avuto quel percorso non è cresciuto in un circolo di tennis è stato catapultato da un paesino in un'accademia con una visione diversa decisamente diversa da quello che è il percorso che abbiamo fatto un po' tutti e quindi la vive diversamente poi io vi assicuro perché lo ha fatto con me con me hanno esordito vado con te Musetti Sonego praticamente Berrettini Sinner Arnaldi hanno tutti esordito con me e ti posso dire che Yannick quando c'è ti dà il 2000% ed è molto uomo squadra con i ragazzi hanno un rapporto strepitoso cioè proprio è una roba è un fuoco che lui ha dentro rispetto a quello che uno magari può pensare o poteva pensare veramente che hanno in pochi poi ha un percorso diverso rispetto a Matteo per quanto riguarda Bologna sono stato d'accordo con te non serve a niente demonizzare uno dei nostri grandissimi campioni l'ho sentito tutti i giorni abbiamo una chat di squadra si è fatto sentire con la squadra tutti i giorni ha messo anche in maniera forse un pochino più leggera l'ipotesi di venire poi però erano circostanti per stare col gruppo o di venire no 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 per stare col gruppo così come ha fatto Matteo ovviamente con Matteo ci siamo detti Matteo se vieni no vero Matteo se vieni rimani fino alla fine e Matteo ha detto porca miseria devo spostare questo questo quell'altro sposto tutto Jannick se ha fatto quella scelta è perché ovviamente aveva degli impegni da fare e nel che faccio magari vengo poi alla fine ha deciso di non venire ma gli è stata ed è venuto da lui partono tutto dai ragazzi non sono io a chiedere a loro di venire sono sempre loro che mi chiedono di venire e anche agli anni che è venuto che faccio Filippo vengo ed è importante questo poi ripeto negli ultimi tre anni poi sono cose che leggo è quello che ha più presenze in in Davis di tutti ma probabilmente ce l'avrebbe Matteo se fosse stato abile e arruolabile perché Matteo soffre come una bestia nel fatto di non poter giocare in Davis me l'ha detto è il terzo anno che non riesco a giocare la fase finale di Davis e questa è una roba che lui lo tira tanto tanto giù e credo che Matteo debba solo fare l'elenco delle rosicate che sta subendo in queste in queste due o tre stagioni ma anche quando ci sono queste state queste famose pre-convocazioni che io reputo totalmente inutili ITF le giustifica con promozione mettere la grafica con la pace bravo promozione farle secondo me a un mese e a quattro tornei da poi l'evento la trovo una cosa inutile addirittura per quanto riguarda settembre c'erano due mille un torneo e uno slam prima poi di effettivamente di arrivare a giocare in Davis Matteo soffre tanto quindi nel momento in cui ci siamo parlati anche prima delle pre-convocazioni non voleva che ci fosse l'ennesima delusione il fatto che magari io potessi pensare di metterlo dentro al di là del fatto che non lo avrei messo dentro perché ho bisogno di garanzie fisiche Matteo in questo momento garanzie fisiche non me le dà però ecco nel suo ragionamento c'era magari Filippo decidiamo insieme di mettermi dentro però poi so che le probabilità che io ci sia alla fine sono pochissime quindi abbiamo fatto ovviamente il percorso diverso che poi sposa la mia linea cioè non su Matteo credo che nessuno avesse nessun dubbio i dubbi eventuali erano un po' più sui Yannick ce li hai chiariti ce li hai chiariti perfettamente io avevo già questa netta sensazione però magari credo che abbia aiutato questa tua cosa che hai detto a confermare insomma un po' le sensazioni nostre che poi è una roba nostra eh ragazzi perché io una settimana prima e due settimane dopo non leggo i giornali faccio penso dormo poco vado avanti per la mia strada e non mi faccio influenzare però ci tengo a dire sono convinto che tu ascolti e leggi normalmente perché sei una persona che comunque si 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 quindi ci tengo a sottolineare questa cosa no no io le studio tantissimo a volte pure troppo però sono uno che si sono uno che studia eh però ho detto mi fai vedere che succede negli altri paesi quindi non ho letto i giornali italiani dopo la Davis dopo quella di Bologna mi sono letto quelli spagnoli per tre giorni di fila niente ehm Alcaraz non gioca niente eh David Ferrer esordisce come capitano di Davis non passa il girone e loro hanno la fase finale in casa niente e noi addirittura iniziamo prima cioè ancora le cose devono accadere che ancora sul forze allora su questa cosa ti voglio chiedere questo anzi prima ti faccio un complesso ti dico anche perché non hai letto i giornali però sei stato bravo secondo me molto bravo a non prendere posizione a non dire niente a non commentare quella situazione che si era creata con Sinner secondo me e però adesso che poi forse qualcosa hai letto ti chiedo le ultime due presunte io dico perché quelle che riguardavano Barazzutti che non sarebbero state eh accettate di convocazione di Sinner Sinner con Corrado comunque decideva Riccardo in qualche modo quel tempo lì ma le ultime due l'anno scorso Yannick ci confermi che era infortunato e questa volta non è un rifiuto perché è appunto il dito e questa volta vi siete parlati quindi si ragiona insieme non è che tu dici Yannick guarda che ti ho convocato e l'altro dice no non funziona così giusto? no non funziona così così come era stato per Bratislava dove tutta la squadra a me compleso e la dirigenza forse per la prima volta in assoluto ha detto a Matteo Matteo capiamo la tua programmazione dove tornavi dall'Australia giocavi in Europa andavi in Sud America saresti dovuto tornare a Bratislava per giocare l'incontro con la Slovacchia per poi tornare a giocare in The Wales e Miami quella decisione l'abbiamo presa tutti insieme e i ragazzi stessi sono stati partecipi di quella decisione poi se c'è uno che non è d'accordo ovviamente cambia tutto e queste decisioni vanno prese all'unanimità sono cose che succedono Yannick mi ha chiamato nella notte perché io ero appena rientrato da New York perché poi io ero il primo ad andare a Bologna anche lì le polemiche Filippo non è rimasto Filippo non è né l'allenatore di Sinner né l'allenatore di Arnarli Filippo deve andare a Bologna prima di tutti gli altri perché negli sistema ha detto ma Paul Andri perché non è di fianco a ma perché vabbè perché non sono l'allenatore di nessuno di loro poi ci sono alcuni giocatori con cui ho un rapporto da più tempo più personale che mi chiedono di andare nel box ci sono dei giocatori e io forse forse per me guarda un ragionamento che sto facendo forse non dovrei andare mai nei box andare nei box a me serve per capire come gli allenatori parlano sotto stress ai giocatori perché io poi in realtà li prendo due o tre settimane all'anno adesso lasciando penso che faccia piacere anche a Filippo perché ha chiarito perfettamente diverse cose che secondo me è anche giusto chiarire andando un po' più sul futuro perché ci interessa poi anche anche di più io mi soffermerei su un paio ho un paio di curiosità mie ma da anch'io da prendila più che da giornalista da da sportivo no e da uno che qualche pallina di tennis l'ha colpita anche se purtroppo non al livello che avrei voluto allora due cose il fatto che vengano durante il weekend della settimana di Davis tutti gli allenatori e quasi tutti i preparatori insomma che lo staff sia molto grande è una riflessione questa è la domanda credo no sì no no mi sono sempre chiesto stupendo dal punto di vista gratificazione è anche corretto dal punto di vista del insomma il giocatore ovviamente ha un percorso quindi anche un grosso aiuto però vedo vedo e magari mi sbaglio un'arma a doppio taglio cioè nel senso tante voci no c'è il rischio delle tante voci perché a un certo punto tu devi essere sereno per scegliere in base a quello che vedi chiaramente loro ti danno una mano enorme possono darti una mano enorme però poi alla fine ti possono anche in una squadra soprattutto così equilibrata nei valori perché poi se c'è Yannick e Berrettini sai uno e due ciao ok e poi non è così difficile però quando hai Arnatti Musetti Sonego e insomma come può essere altre squadre la Gran Bretagna mi viene in mente che è una squadra molto equilibrata che può scegliere più singolaristi dico cavoli non è che a volte poi c'è il rischio ma sempre in buona fede che alcune voci poi di troppo ti tolgano un po' di certezze questa è la prima domanda che ti faccio ma anche di certezza e serenità credo cioè di tranquillità sì di certezza nel senso della chiarenza della scelta ecco lì no fatica in più sì perché ovviamente tutto questo gruppo va coordinato ed è anche lì un po' il fatto di quello che dicevo all'inizio cioè è un percorso appena iniziato anzi secondo me siamo anche decisamente più avanti rispetto a dove pensavo di essere oggi con tutti i giocatori esordienti con tutti i allenatori che hanno fatto questo percorso con quei giocatori quindi non non c'è il Cail della situazione che questo percorso l'ha già fatto con diversi giocatori quindi sicuramente fatica in più sì però torniamo un po' al discorso che facevo prima per me la cosa è far sì che loro siano il più tranquilli possibile che possano performare nel miglior modo possibile possono i ragazzi a decidere se portare l'allenatore oppure no perché a volte lo portano a volte no anche in base al periodo a quelle che sono le sue esigenze a volte preferiscono avere un preparatore atletico perché stanno lavorando su un aspetto piuttosto che su un altro l'importante è che loro si fidano e si fidano anche gli allenatori quindi nel momento in cui un allenatore viene tocca con mano ed è successo anche vede come funzionano le cose poi dopo a volte decide di venire a volte decide di non venire ma sa che il lavoro viene portato avanti e per me questo è importante io l'ho fatto nel settore tecnico cioè la federazione prima era abituata a prendere a cercare miglior talenti in Italia mettere in un centro tecnico e allenare direttamente io non ho più residenti da anni dentro il centro tecnico cioè il nostro lavoro è stato potenziare gli allenatori dargli appunto dei potenziatori che potessero potenziare i team allenatori migliori giocatori migliori più giocatori ed è un sistema che poi è quello che ci chiedono le altre federazioni come mai che è successo come mai fate come riuscite ad avere tutti questi risultati giocatori eccetera eccetera proprio perché siamo andati lì quindi non vedo perché in Davis dovrei prendere una direzione diversa poi sì è più faticoso decisamente perché poi sono tutte personalità diverse però torno a dire quello che ho detto prima io li prendo due o tre settimane all'anno quindi vuol dire che io devo avere un rapporto con loro 365 giorni d'anno cioè io vado dove loro si allenano una gestione totalmente diversa cioè prima si andava in dieci tornei si faceva quattro slam tre quattro tornei sparsi no il mio rapporto con loro è tre sei cinque all'anno proprio perché io vado dove si allenano vado in determinati tornei che magari non c'entrano niente con l'appuntamento di Davis però alla fine ti prendo tre settimane all'anno quindi è un ruolo molto menageriale più che tecnico poi per questo ti dico a volte a me serve andare nei box per capire come il giocatore vuole sentirsi parlare io sono cinque persone diverse quando ho i ragazzi perché ognuno di loro devo parlare in maniera diversa Yannick vuole che tu gli parli in un certo modo che è un modo totalmente diverso da quello di di Muso che è un ruolo che è un modo totalmente diverso da quello di Matteo quello di Sonni cioè sono tutti diversi io devo essere bravo ad avere una comunicazione con loro diversa per ognuno di loro cioè so io che mi devo adattare a loro non loro a me Fido intanto dico che secondo me tra un po' di anni tra un po' di anni perché c'è già un presidente che comunque ha portato la federazione a tanti risultati secondo me Filippo potrebbe fare il presidente tra un po' di anni magari tra un po' no ma ti chiedi allora una domanda veloce questi ragazzi del tuo gruppo ovviamente a parte gli anni che nel corso della TP Finals saranno presenti magari perché richiesti per fare da sparring tra virgolette allenamenti con questi giocatori che arrivano parli di Rosa di Davis no ognuno sarà in un posto diverso ad allenarsi a parte Sonny che è allo sport che si allenerà allo sport in Gianni è lì Arnaldi sarà in un posto diverso Muso sarà in un posto diverso verrà a Torino che da un paio di giorni perché poi hanno anche tanti appuntamenti extra che magari rispetto all'anno scorso limiteranno tantissimo perché abbiamo visto che ci serve che si rimanga proprio nell'idea che la stagione debba debba ancora finire però no puoi pensare di metterli dove nello stesso luogo sarebbe impensabile soprattutto alle Finals dove non è che hai tutti questi spazi enormi da poter gestire doppio poi ti lascio la domanda non so se era quella la tua Guido intanto ti chiedo perché perché secondo me è importante purtroppo forse chi ci ha preceduto che erano veramente dei maestri nel nostro mestiere comunque c'era un confronto anche più ravvicinato tra virgolette più continuo con i protagonisti giocatori alienatori capitani mi piace chiederti perché hai scelto Bolelli e magari non va a Vassori come doppista per questa convocazione e se hai pensato cioè hai pensato già la prima giornata con il Canada eventualmente di schierare lì in singolare Arnaldi allora tornando al Canada Arnaldi è quello che è arrivato da noi per ultimo perché veniva poi parte che ha finito più tardi a New York e poi veniva da sette settimane di fila in interrottamenti aveva bisogno di due giorni per rifiatare perché era cotto quindi è arrivato più tardi e ovviamente quello che vi dico rispetto a superficie è quello che ha fatto più fatica ad adattarsi a una superficie rapida il suo ultimo torneo indoor risaliva forse a un challenge o addirittura un future x anni prima quindi non aveva praticamente esperienza indoor e si è visto perché più di giorni ha fatto fatica ovviamente più passavano i giorni più lui si trovava meglio su quella superficie ecco che poi arrivano anche le scelte successive detto questo però Busetti è un grande giocatore ora sta attraversando un periodo particolare della sua vita della sua carriera questo è sotto l'occhio di tutti anche a suo dire però insomma non ci dimentichiamo che è un grande giocatore e può giocare bene anche su quella superficie è ovvio che se gioca sulla terra all'aperto in questo momento si sente più comodo rispetto a giocare su una superficie molto molto veloce indoor di conseguenza poi sono state fatte quelle scelte cioè l'idea di far giocare Arnaldi in doppio non è che Arnaldi è il miglior doppista che abbiamo in Italia ma sull'idea di farlo giocare perché poi a me serviva che sono nella mia testa serviva che sono che giocasse con Giarri e che Arnaldi giocasse da due e ovviamente dovevano vincere entrambi pagare lo scotto dell'esordio in una partita che assolutamente devi portare a casa per me era forse troppo per Matteo e quindi c'è l'idea di far giocare un doppio poi perso il tesero al terzo però ecco di fargli sciogliere un po' il ghiaccio per poi essere schierato insomma c'è un po' di ragionamento per quanto riguarda invece Bolelli Vapassori purtroppo Andrea non ha ancora potuto esordire e lì non è neanche un girone dove dici se qualcosa va male hai il tempo di recuperare lì serve più di tutto serve l'esperienza serve il saper gestire quelle situazioni di Andrea avrà tutto il tempo per poter imparare anche a gestire quelle situazioni ma non in una fase dove quarta semifinale finale se perdi il doppio torni a casa quindi ecco anche Andrea insomma è sulla stessa linea ci siamo parlati tanto per me quando arrivano queste convocazioni pre convocazioni la parte più difficile è ovviamente dire a chi non ne farà parte che non ne farà parte però ecco fino a oggi ho trovato sempre una grandissima disponibilità io volevo ancora chiederti vabbè intanto parto dalla mia idea non so siamo un paio di minuti che l'Olanda sia una squadra particolarmente rognosa perché Van de Zamschuk tra l'altro che ha avuto una crisi terribile quest'anno si sta riprendendo maledetto lui proprio adesso e a me piace tantissimo come giocatore piace tantissimo indoor poi secondo me può essere veramente molto pericoloso come lo è Grigsburg e i doppisti sappiamo che sono di primissima qualità quindi ti chiedo uno se reputi io ho in testa che se superiamo quello scoglio lì poi potrebbe essere quasi più facile tra virgolette dopo le partite dopo e poi chiudo con mi permetto addirittura guarda cosa faccio di darti un consiglio ovviamente spassionato ogni tanto fai un sorriso in panchina perché secondo me perché secondo me venite voi quelle due settimane abbiamo capito abbiamo capito un po' ti conosco la tua serietà e come affronti l'impegno e tutto però magari ogni tanto in certi momenti della partita lo sai anche tu dire la cazzata tra virgolette può magari può magari sciogli ma mi fermo lì ovviamente no no sono state io non mi nasconde tra andito sono state due settimane toste più toste rispetto a tante altre settimane dove abbiamo avuto tante tante difficoltà ci sono state tante cose da gestire quindi lì per me sorridere è stata una parte difficile poi ogni tanto è vero perché serve per allentare lo puoi fare con Soneco per esempio spesso con Matteo anche serve un po' allentare magari con Yannick meno però no no sono d'accordo con te a volte serve fare fare un sorriso quello quello è verissimo sono accetto il consiglio alla grande e gli olandesi? sono tosti hai ragione Guido sono una squadra tosta sono una squadra compatta hanno un ottimo doppio anche se poi in queste pre-convocazioni non c'è Middlet ma mi aspetto che ovviamente poi ne faccia ne faccia parte Grigsport è 20 del mondo e non si arriva 20 del mondo a caso soprattutto in quelle superfici dove loro poi nascono e crescono Van de Zanschum è vero si sta riprendendo un po' nelle ultime settimane è un giocatore fastidioso perché è un giocatore che serve molto bene che cerca molto la rete quindi poi in quelle in quelle condizioni diventa insomma pericoloso però poi a me piace sempre guardare a noi e quindi questo mi rassicura molto perché ho dei giocatori forti veri che stanno facendo squadra e che la fanno sempre molto di più quindi per me anche poi quella parte di unione di squadra sapete a quanto io tenga ed è quella la parte che mi inorgoglisce di più poi ripeto siamo una squadra giovane faremo esperienza faremo errori cadremo ci rialzeremo però oggettivamente se riguarda il percorso un quarto di finale senza Matteo una semifinale senza Matteo e Gianni cioè io ho avuto la squadra al completo forse due volte su tredici e arrivi in un'altra in una in una semifinale l'anno scorso solo grazie a giocatori forti quindi a Busetti a Sonego a Bolelli Fognini che l'anno scorso hanno giocato due grandissimi doppi una è una fase di round robin a Bologna e una appunto contro gli Stati Uniti abbiamo votato due volte gli Stati Uniti che hanno una caratura anche a livello di numeri molto più grande della nostra quindi abbiamo fatto un quarto una semifinale in due anni con una squadra al completo due volte su tredici per me è già tanta roba e vediamo quest'anno che è successo siamo andati in conclusione anche anzi abbiamo sforatoci per vedere una Stefano Lanzanova che ci segue dietro le quinte è stata una bellissima chiacchierata davvero molto soddisfacente soprattutto speriamo di farne presto un'altra con toni ancora più allegri diciamo così ok? a disposizione a voi ciao grazie ciao Filippo ciao ciao Grazie per la visione!